Io sono legato a questa società, al Presidente, a questi colori, a questa città. L'ho sposato l'anno scorso del progetto e sono contento di farne parte anche quest'anno di questo progetto in Serie D per cercare di fare un campionato importante come merita la piazza di Gera. Però è pur vero che il campionato di Serie D non è quello di eccellenza. Sì, assolutamente, è un campionato diverso, importante, già tecnicamente più preparato, più forte rispetto all'eccellenza. Troveremo squadre di blasone. Però io in questi giorni di lavoro ho visto la squadra e sono convinto che la società ha fatto gli ottimi acquisti e sta facendo una buona squadra che potrà fare divertire il Gela e i Gelesi. Avete costruito un gruppo solido, manca ancora qualcosa ma arriverà, lo diceva anche il direttore sportivo Martello. Sì, ovviamente ancora qualcosa manca. Siamo appena all'inizio, abbiamo fatto appena 10-12 giorni di ritiro, quindi si sta lavorando, si inizia a capire cosa manca, cosa serve. Però ho già potuto vedere che ci sono degli under bravi. Credo, ripeto, che la società farà di tutto per allestire una rosa importante. Per puntare a cosa? A fare un buon campionato, a fare un campionato importante, come è giusto e come Gela si aspetta. Ma come il presidente Duccio ha sempre fatto, perché è una persona ambiziosa, come lo siamo noi, come lo è il direttore, come è l'allenatore. Quindi sicuramente sarà una rosa competitiva. Quindi sicuramente sarà una rosa.